Siamo qui a manifestare davanti al Ministero della Salute per chiedere al Ministro Razio Schillaci di non rendersi assolutamente protagonista dello smantellamento di una delle norme più cautelative a livello internazionale per quanto riguarda la protezione ambientale e sanitaria dell'irradiazione elettromagnetica. È un problema grosso, è un problema grave, riteniamo che sia il vero e proprio trattamento sanitario a cui viene sottoposta tutta la popolazione e quindi aumentarlo da 6 volte per metro fino a 24 o 30 o magari ancora di più significherebbe sottoporre ognuno di noi a un vero e proprio salto nebulio. Noi chiediamo di non fare delle vere e proprie cavi umani ai cittadini italiani, chiediamo di mantenere i limiti attuali, anzi di puntare alla minimizzazione del rischio, quindi puntare a tecnologie alternative, puntare a qualcosa di più sicuro e di meno impattante a livello ambientale. Continueremo la nostra dimostrazione, continueremo a manifestare il nostro dissenso finché ovviamente questa norma non verrà accantonata e continueremo anche a sensibilizzare l'opinione pubblica perché questa è una battaglia di civiltà che non riguarda soltanto noi ma riguarda tutta la popolazione civile. Il ministro 5G invita il ministro della Salute e il ministro professore Lombardo a Lazio Schillaci a non rendersi protagonista di un'amatora che altrimenti vedrebbe stralciata, una delle norme più cautelative a livello internazionale per quanto riguarda l'inquinamento elettromagnetico. A margine di questo sit-in una delegazione di alleanza italiana Stop 5G sarà ricevuta all'interno delle stanze del ministero della Salute. Siamo stati ricevuti dalla segreteria tecnica del ministro professore Lazio Schillaci, in disattezza ci ha ricevuto il dottor Luigi Patacchia, abbiamo rappresentato le nostre dimostranze, abbiamo protocollato 65.000 firme di italiani contrari all'innalzamento delle milisoglie di inquinamento elettromagnetico. La segreteria tecnica del ministro provvederà, almeno questo ci è stato detto, ovviamente a riportare tutto sia al capo di cabinetto che allo stesso ministro Schillaci. Quello che possiamo dire ovviamente non soltanto agli attivisti di alleanza italiana Stop 5G ma tutta la popolazione interessata rispetto al decreto legge telecomunicazioni è quello che oggi finalmente l'esecutivo, nella fatti special di Castello della Sanità, ha le dimostranze dei cittadini che chiedono di non innalzare l'elettrosmog. Quindi siamo fiduciosi e soprattutto abbiamo sollecitato una risposta a ILEA, alla commissione che fa riferimento a livelli essenziali di assistenza. Dopo nove mesi noi siamo ancora in attesa che la commissione si pronunci per quanto riguarda il riconoscimento nazionale dell'elettroipersensibilità. È una sindrome altamente invalidante che sempre più persone purtroppo iniziano a pagare le conseguenze sulla propria pelle. Non è pensabile che in nome del 5G si possa sdoganare lo tsunami elettromagnetico sapendo che ci sono cittadini che già ai livelli attuali subiscono come una vera e propria tortura quello che è il pericolo invisibile. Siccome la nostra è un'azione pubblica e politica, quello che andremo a comunicare al ministro Orazio Schillaci è il nostro interesse renderlo pubblico a tutti i cittadini e quindi do a lettura della nota ufficiale che abbiamo prodotto e che insegneremo direttamente al capo di gabinetto. Il greggio ministro professor Schillaci ha preso a mezzo stampa il contenuto dell'allegato tecnico e nella bossa del cosiddetto decreto legge telecomunicazioni con il quale il governo intenderebbe smantellare una delle norme più cautelative al mondo in tema di inquinamento elettromagnetico in vigore in Italia da oltre due decenni, evidenziato poi come si legga nel testo che aumentare gli attuali limiti rimanendo sotto i valori europei di emissione avrebbe il duplice vantaggio di rassicurare i cittadini più timorosi e venire incontro alle loro giuste preoccupazioni. L'alleanza italiana Stop 5G si trova a scriverle proprio in riferimento ai fondati timori degli italiani e alle giuste preoccupazioni già note a Codesto di Castero, considerato come il provvedimento nasca su proposta del ministro delle imprese e del media in Italia di concerto con il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il ministro della salute. Con la presente, richiamati tra gli altri rapporti del Bioinitiative Group, quello del Parlamento europeo nella risoluzione del 2009, dell'Assemblea del Consiglio d'Europa con la risoluzione 1815 del 2011, siamo a chiederle di non innalzare i limiti soglia di inquinamento elettromagnetico per evidenti pericoli e potenziale aggravamento dei danni alla salute pubblica, noto come già gli attuali limiti si basino esclusivamente sui soli effetti termici acuti e non certo sugli effetti biologici e ambientali cronici dovuti alle esposizioni. Nonostante esista ormai numerosa evidenza scientifica sulla presenza dei rischi riscontrati per la popolazione riscontrati anche a bassi livelli. Considerato come la legge quadro del 2001, ci di sia il principio di precauzione sancito dall'Unione europea come approccio prudenziale alla gestione del rischio che il principio di minimizzazione alara, cioè il livello più basso ragionevolmente ottenibile come radioprotezione, tanto che in Svizzera, come è noto, vige la norma dei 5 volt per metro. A riguardo si tiene quindi a precisare come l'ipotizzata proposta di innalzare per mezzo di un decreto legge il valore di attenzione e l'obiettivo di qualità sia non solo il movente del simbolico sit-in di oggi in piazza Castellani, ma anche oggetto di una forte opposizione civile e della petizione popolare lanciata dall'alleanza italiana Stop 5G, sottoscritta da circa 65.000 cittadini. Il titolo della petizione è Stop 5G, moratorio nazionale in difesa della salute pubblica, della quale inviamo oggi significativo riscontro corredato da tutte le firme assunte. Inoltre, facendo seguito alle indicazioni ricevute nel 2021 proprio da parte di Codesso Ministero della Salute circa la possibilità di offrire tutela sostanziale ed effettiva ai cittadini colpiti dalla sindrome altamente invalidata, dell'elettroipersensibilità, ovvero quanti già adesso patiscono sulla propria pelle e con forti limitazioni alla vita sociale, razionale e lavorativa, l'ubiquitaria e accumulativa di overdose elettromagnetica negli attuali limiti cautelativi ma non pienamente protettivi dei sei volte per metro rilevati nelle 24 ore, questa è una riformazio impegius tutta l'italiana visto che prima del 2012 il rilevamento era nei sei minuti e in Europa ancora oggi è misurata nel picco dei dodici minuti. Si precisa che, corredata da relativa bibliografia, fornita tutta la documentazione scientifica occorrente e necessaria insieme a ISDE Italia, Assurazione Medici per l'Ambiente, da circa nove mesi, cioè dalla nostra richiesta presentata al 4 ottobre del 2022, si è ancora in attesa di una risposta da parte della Commissione Nazionale per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e la promozione dell'appropriatezza nel servizio sanitario nazionale, attesa che a maggior ragione quanto all'ipotizzato provvedimento nella sopracitata bozza del decreto telecomunicazioni rende ancora più urgente e necessaria una presa di posizione ispirata al buonsenso e al principio di prevenzione del danno da parte di Codesto Ministero a tutela dei più sensibili e svantaggiati. Si tiene anche a sottruniare, greggio Ministro Professor Schillaci, come le azioni civiche sostenute sin dal 2018 dall'alleanza italiana Stop 5G a difesa della salute pubblica, sempre più minacciata dal pericolo invisibile dell'elettrosmog, si annoveri anche un precedente incontro tenuto esattamente qui nel 2020 al Ministero della Salute, al tempo presieduto dall'onorevole Roberto Speranza, così come nello stesso anno un altro incontro è avvenuto all'Istituto Superiore di Sanità nel colloquio col professor Silvio Brusaferro. Ciò lo si sottolinea affinché un domani non si possa sostenere che le istituzioni preposte alla difesa della salute pubblica non abbiano contezza dei pericoli in atto, né siano state per tempo adeguatamente informate e sollecitate dall'azione politica intrapresa da parte della cittadinanza consapevole e attiva. Infine si tiene a citare lo stralcio di un'istanza presentata nel 2021 da parte di autorevoli scienziati di fama internazionale ed inoltrata all'allora Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi al tempo in cui ieri come oggi l'esecutivo provò ad innalzare l'elettrosmog per poi ripensarci facendo marcia indietro. Sarebbe una mossa retrograda, dicono gli scienziati, è poco saggio aumentare i limiti di esposizione di radiofrequenze previcenti italiani per raggiungere i limiti di esposizione inadeguati raccomandati dall'ICNIRP. L'Italia ha guidato il mondo negli ultimi vent'anni nel dimostrare che i limiti di esposizione per la protezione della salute sono più bassi e protettivi per le radiofrequenze. Un appello alla prudenza e alla tutela quindi ci consenta di rimarcare greggio Ministro Professor Schillaci quanto mai attuale e da sottoscrivere. Siamo in attesa di sua risposta e restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, informazione o integrazione. Alleanza italiana Stop 5G. Detto questo una nostra delegazione salirà per avere un colloquio con il Ministero della Salute.